La prostatite, una malattia, un difetto della prostata molto diffusa soprattutto tra i giovani. Da cosa dipende e soprattutto cosa fare? Il professor Michele Gallucci, chirurgo urologo all'Istituto Regina Elena di Roma. Intanto cosa è la prostatite, come si presenta? La prostatite si presenta con dei caratteristici disturbi urinari che sono la minzione frequente e soprattutto un senso di peso al perineo che disturba costantemente il paziente. Ma da cosa dipende? Cosa c'è dietro? Cioè dietro ci può essere una prostatite di tipo batterico oppure una forma più frequente che quella batterica ovvero una situazione infiammatoria e congestizia del piccolo bacino che determina questi disturbi. Lei cosa fa quando si presenta un uomo, un ragazzo con questa malattia, chiamiamola? Ecco, prima di tutto faccio uno screening di tipo batterico c'è l'esamorino, l'uninocultura e un tampone uretrale per vedere se ci sono dei germi. Se ci sono dei germi ovviamente la terapia antibiotica la fa da padrone. E se non ci sono i germi? Ecco, questo è molto importante. Non devono assumere antibiotici, cosa che frequentemente fanno ma migliorare il loro stile di vita ovvero non mangiare spezie in abbondanza bere due litri d'acqua tenere l'intestino in ordine che spesso è coinvolto contestualmente e soprattutto fare un'attività sportiva ovvero questo paziente deve cambiare le sue abitudini di vita. Grazie a tutti.